I nuovi positivi seguono un trend calante, così come i ricoveri che collocano l'Urs Dolomiti nella fase gialla del piano di sanità pubblica regionale, addirittura per le terapie intensive e il livello di occupazione è allo step precedente. Effettuati quasi 200.000 tamponi molecolari e 142.000 antigenici rapidi da inizio epidemia, anche l'Urs Dolomiti partecipa al programma di sorveglianza delle varianti di SARS-CoV-2 circolanti. Il programma consiste nell'invio in date precise dei campioni risultati positivi al laboratorio dell'Istituto Zoo Profilattico di Padova per il sequenziamento. Anche nel bellunese, come nel resto del Veneto, la circolazione della variante inglese è di circa il 20%. Per quanto riguarda i nuovi contagi, nel loro complesso, la mappa dell'incidenza settimanale per comune su 1.000 abitanti nella settimana appena trascorsa disegna una crescita piuttosto moderata, generalmente intorno ai 4 casi. Unica eccezione ospitale dove l'incidenza si sposta nella fascia tra i 10 e i 12. Il dato però va preso per quello che è. Il paese ha meno di 300 abitanti, quindi stiamo parlando di 3 o 4 nuove positività in tutto. Capitolo vaccini all'Urs Dolomiti. Sono destinate 1.000 dosi di vaccino moderna per gli ultraottantenni e 1.700 di vaccino AstraZeneca per gli under 55.